L'organizzatore da parte sua sta facendo un ottimo lavoro, l'ha fatto in passato, io sono sicuro che lo farà anche in futuro. L'organizzatore è stato fatto. L'organizzatore è stato fatto. L'organizzatore è stato fatto. È stato uno dei besti dei raiamenti, che abbiamo organizato in L'Overegna. L'organizzatore è stato fatto. È stato uno dei ricordi sempre belli. È organizzato dal mio Sciclub. È sempre bello tornare qui. È un honore. E mi diverto sempre, devo dire. L'organizzatore è stato fatto. L'organizzatore è stato fatto con L'Overegna. Grazie a tutti.